Da dove inizio per saperne più di DevOps? Questa è una domanda che mi viene fatta sia di persona ma anche attraverso qualche messaggio privato nei vari social. Ciao, io sono Michele e oggi sono qui per farti vedere quali sono i miei metodi preferiti per iniziare a saperne di più di DevOps, in particolare i libri. Alla fine del video rivelerò il libro che mi ha dato più soddisfazioni in assoluto. Tu hai già letto qualche libro su DevOps? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti piacerà iscriviti al canale e metti un mi piace così sarai notificato quando arrivano nuovi contenuti. Andiamo avanti. Sull'argomento sono stati scritti davvero tanti libri, alcuni più rilevanti, alcuni più tecnici, alcuni specifici su un settore, magari per gli specialisti di BA e così via. Qui dietro la mia libreria tecnica, di manuali tecnici, la parte più importante, diciamo fino qui circa, riguarda gestione di progetti software e DevOps. Nel mio cuore innanzitutto il primo libro, il più importante che mi sento di citare, è The Phoenix Project. È il libro che mi ha aperto al mondo DevOps, mi ha fatto appassionare. È un romanzo tecnico e spiega i concetti appunto in forma romanzata. Chi ha passato qualche anno nel mondo IT, sia developer o magari anche operation, soprattutto in aziende di medie dimensioni in su, da medie dimensioni in su, troverà tantissime cose, si identificherà in tante situazioni. Ecco, questo proprio è, secondo me, il libro numero uno per entrare nel mondo DevOps, proprio culturalmente e filosoficamente. Subito dopo mi viene da citare The DevOps Endbook, libro che ha seguito la scrittura, appunto, dopo The Phoenix Project è uscito The DevOps Endbook, se non ricordo male. Questo è un libro, è più proprio un manuale pratico e implementativo con tutte le pratiche DevOps, su tutte e tre le vie, la via del flusso, del feedback e dell'apprendimento continuo. Straricco veramente di, appunto, guardando solo l'indice, veramente molto pieno di cose da implementare in team e anche nei nostri software, nei processi di deployment e a livello di gestione. Lettura assolutamente consigliata. Cambiando un po', sempre restando in ambito DevOps, ma ancora concentrandosi ancora di più su quello che invece sono le persone, che è sempre l'argomento centrale di DevOps, persone e interazioni tra persone, c'è Team Topologies. È un libro che ho preso qualche anno fa, quando ho dovuto un cliente e mi ha chiesto una consulenza un po' particolare su come organizzare un grande dipartimento dove c'erano svariati team che dovevano interagire tra di loro, creano prodotti, l'azienda c'è ancora, creano prodotti complessi dove ci sono parti firmware, parti web, insomma c'è un po' di tutto e questi team dovevano interagire tra di loro, la situazione era un po' complessa e io ho portato avanti la cosa, ma prima mi sono fatto un bello studio di Team Topologies e poi non so se il cliente si è andato avanti con le mie pratiche suggerite e spero di sì. Ecco, riassumendo, se devi organizzare team di persone e rivoluzionare un'azienda, Team Topologies. Invece per quanto riguarda le pratiche di deployment, ma anche best practice di sviluppo e infrastrutture e così via, per essere proprio soprattutto in ambito cloud native, Release It di Naegard, è un ottimo libro di livello abbastanza avanzato, expert dice qua dietro, che ci insegna delle pratiche, delle linee guida, dei principi di progettazione per creare del software in grado di supportare gli scenari di produzione più intensi, ma anche che sia facile da monitorare, manutenzionare e così via. Lettura non piacevole come un romanzo, ricca di contenuti e molto valido. Infine mi sento di citare tra le letture must have, un po' se sei più una figura che ti occupi anche di gestione requisiti, product, program management, PO e così via, user story mapping. Comunque anche se sei un developer, sapere come scrivere le best practice, di come scrivere user story, che cosa rappresentano per costruire i prodotti migliori senza impastire, una raccolta di requisiti secondo le principi agile e lean, user story mapping, assolutamente consigliato must have. Ecco, questi sono quelli che mi hanno preso di più, che ho anche riletto più volte, soprattutto DevOps & Book, che è un manuale, quindi trovai a rileggere quando ne hai bisogno. Sono libri che si riprendono in mano anche a distanza di mesi o anche qualche anno, ogni tanto, dargli una qualche rilettura va sempre bene, c'è sempre quel concetto che rimane nascosto. Sono libri ricchi di principi e di contenuti e vanno presi un po' con calma e non è che una volta che li hai letti, insomma, ti resta tutto nella testa e boom, sei un super esperto. Bisogna avere pazienza e leggere un po' alla volta e applicare quello che, cercare di applicare anche secondo il proprio progetto, contesto o team, quello che viene spiegato o il problema principale che dobbiamo risolvere. Nella mia carriera i libri hanno sempre rappresentato delle milestone importanti. Quando decido di comprare un libro su un determinato argomento, sia soft skill magari, oppure una skill tecnica come DevOps, sono sempre iniziato dai libri. Mi danno struttura, mi rappresentano un impegno, qualcosa che posso andare a riprendere. Insomma, per me il libro nello studio e nell'evoluzione della carriera è molto importante. Bene, i libri su DevOps non finiscono qui, questi sono semplicemente i più noti, o almeno quelli più noti a me e i miei preferiti, ma ce ne sono veramente tanti. Lascio qui in descrizione un link a un PDF che ho preparato con i top 12 libri per un DevOps engineer, un po' divisi anche per specializzazione. Quindi da un po' così da avere per orientarsi una mappa, per sapere quali libri prendere, per cominciare ad entrarsi o specializzarsi in uno dei mondi DevOps. Ecco il mio libro preferito in assoluto, è Kanban, un libro che mi ha fatto diventare uno dei più interessati alla metodologia Kanban e cerco di applicarla in ogni contesto sia personale che professionale e ho avuto grandi soddisfazioni negli ultimi anni perché sono riuscito ad applicarla veramente in tanti contesti e in situazioni diverse. A me piace dire Scrum vende perché è il più noto, ma Kanban vince perché è il più facile da implementare e se leggerai questo libro è stravolgente. Magari ci faccio dei video dedicati.